Tornare dopo un po' di tempo che non carico video, ragazzi, è veramente molto difficile. In realtà di difficile c'è tutto il contesto dell'ultimo mese e mezzo della mia vita che ha un po' stravolto, diciamo, gli equilibri miei, della mia vita, della vita della mia famiglia e non solo. Non so se l'ho scritto dal titolo, non so come un po' sarebbe un po' stato il video perché non ho assolutamente niente di scritto, però diciamo che come avete visto nell'ultimo mese e mezzo c'è stata la questione del covid che ha colpito me, che ha colpito praticamente tutta la mia famiglia escluso l'unica persona che non l'ha preso, tecnicamente è stato mio fratello e invece della sua famiglia praticamente tutti quanti abbiamo avuto il covid. Il covid ha portato via mio padre. È stata, e lo è tuttora, una situazione strana perché fino a quel giorno non avevo mai perso nessun parente. Ho sempre avuto questa fortuna di avere tutti i nonni, tutti gli zii, tutti i tuoi cugini, un fratello fortissimo al mio fianco da quando esisto. E la prima persona che ho perso nella mia vita è mio padre. Diciamo che la situazione, non sto qui a spiegare come, perché e quant'altro, ma secondo me ha combattuto come un leone, è stato tanti giorni in terapia intensiva, però purtroppo non ce l'ha fatta. E faccio questo video perché da oggi in poi tornerò comunque sul canale, tornerò a caricare video, tornerò a essere forte quanto lo vuole lui e quanto lui mi ha appunto sempre trasportato questa sua forza. Faccio questo video perché comunque volevo un po' spiegarvi la situazione del perché nell'ultimo periodo sono mancato tanto. Per me papà era il... un faro. Come lo era per me, lo era per mamma, lo era per mio fratello, e... Papà per me era veramente tanto importante, anche per quanto riguarda tutto questo. Papà era veramente il mio primo fan, era super felice di quello che facevo, seguiva tutto quanto quello che facevo nel mio lavoro, era super curioso di conoscere tutto quanto quello che c'era dietro, anche dietro le quinte, tutti quanti gli aspetti. Ha visto me e Marci crescere anche da... sotto questo punto di vista, da zero. Sin dal primo giorno in cui ne ho parlato, era super curioso e mi spronava un sacco. Mi... mi... mi dava quella carica magari anche nei giorni che... dove non ero tanto magari motivato. Mi dava veramente... quella forza in più per... per proseguire, per... per essere sempre motivato in quello che facessi, nel cercare sempre degli stimoli nuovi, e... ed era felice. Cioè, era veramente felice di... tutto quanto quello che facessi. Sono veramente orgoglioso del papà che ho avuto, perché era il mio eroe. E sono stato veramente tanto fortunato a... avere lui come padre, per... perché non... non se... non sempre, anzi è molto raro trovare persone che ti motivano così tanto in quello che fai, ti spronano e non ti buttano giù, non... eh... io ho notato, conoscendo tante persone nella mia vita, che... eh... molti hanno dei genitori che... preferiscono imporre le loro idee ai figli, piuttosto che dare supporto ai propri figli in quello che amano, nelle passioni che hanno e in quello che fanno. E io ho avuto veramente la fortuna, e tuttora ho comunque la fortuna, di avere una famiglia fantastica. E di questo devo essere super felice e super orgoglioso. E... visto che lui è sempre stato mio fan di tutto quanto quello che facessi, so che lui in questo momento vorrebbe che io tornassi ancora più forte di prima, quindi lo farò, eh... con questo video quindi... è solamente l'inizio di un... diciamo di un nuovo capitolo della mia vita, dove lo sentirò comunque vicino, perché lo sento vicino veramente tutti i giorni, e... e so che comunque in qualche modo troverà modo anche di vedere, secondo me, questo video. Non lo so come, di leggere tutti quanti i vostri commenti. E quello che vi dico io, se avete la fortuna di avere fratelli, parenti, persone molto strette a cui tenete, non è mai scontato voler bene una persona, non è mai scontato provare dei sentimenti per le persone. Quindi dimostrate sempre il bene che volete alle persone a cui veramente ci tenete. È molto importante come cosa. Questa cosa qui è... è una cosa che lui mi ha sempre insegnato, che porterà sempre con me. E... nulla. Promesso, ragazzi, torneranno i video. Oggi mi... mi metterò sotto. E... oggi, oddio, in questi giorni mi metterò sotto. E... l'ultima cosa, come vi ho già spiegato, gli altri video del Covid erano monetizzati, e i soldi fatti con quei video verranno tutti quanti devoluti in beneficenza. Compreso questo video, i soldi verranno tutti quanti donati in beneficenza esattamente tra un mese. Così ho l'esatto conto di quanto io possa donare in beneficenza. Oltre che a questi soldi verranno donati tutti quanti i soldi che ho preso grazie ai Rivals di Minecraft. E credo che verranno donati in qualcosa che c'entra sempre con magari qualche azienda ospedaliera o queste cose qui. Perché ho visto i dottori, il mondo che c'è dietro, ho assistito a tutto quello che succede nelle terapie intensive e tutto quanto. E ho visto veramente quanto la situazione è dura, quanto la situazione è veramente difficile, ma è anche molto difficile da parte loro. Quindi è un piccolo supporto in più che vorrei dare grazie comunque a quello che sono riuscito a creare nel tempo, anche grazie al supporto di papà. Quindi vi ringrazio veramente di cuore per tutti quanti i messaggi, per tutto quanto l'affetto che mi darete in generale, o che avete sempre dato anche nell'ultimo mese e mezzo di supporto, che nonostante magari o caricassi poco, eravate sempre lì a interessarvi e a come stessi, a come stessero andando le cose. Nulla. Mi raccomando ragazzi, veramente, ci tengo veramente molto al messaggio che vi voglio lasciare in questo video. Per me adesso ci rivediamo ragazzi, davvero. Grazie davvero a tutti quanti per tutto quanto il supporto, per tutti quanti i messaggi. Ci vediamo nel prossimo video. Da Mark e tutto ragazzi.